Non c'è tregua per i catanesi al volante, oltre sei mesi di lavoro, circolazione modificata, traffico in tilt, consegne più volte slittate e adesso quattro ore di chiusura alternata delle corsie sulla circonvallazione proprio nelle ore nevralgiche di punta, dalle 14 alle 18, ma sono gli ultimi sacrifici chiesti agli automobilisti, poi il tondo gioeni sarà restituito alla città con un volto nuovo di zecca. E' proprio in questi minuti che la circonvallazione sta per essere ancora una volta cambiata per asfaltare la corsia in direzione Ognina e quella opposta, mentre già da stamattina gli operai lavorano alla disposizione della segnaletica verticale, di quella orizzontale e della luce. La chiusura alternata delle corsie in un orario nevralgico non è una scelta azzardata? Ma guardi, noi siamo preparati e pronti per poter gestire al meglio l'evento. Vi è una grande collaborazione fra tutte le direzioni interessate, dalla polizia municipale alla direzione traffico urbano, alle manutenzioni e lavori pubblici e anche alla protezione civile. Ritengo che riusciremo a gestire al meglio la situazione. Momenti di sbarrimento intanto tra gli automobilisti che iniziano ad imboccare la rotatoria nonostante il cantiere sia ancora aperto e i mezzi restino piazzati sulla strada, così come avviene anche sulla vicina via Gaifami, congestionata per l'avvio dei lavori di scavo dell'Enel, che effettueranno il collegamento con la cabina elettrica all'interno della cittadella, potenziando così il servizio di distribuzione dell'energia in città. Resterà percorribile a senso unico dalla circonvalazione verso via Gian Battista Grassi fino a giovedì, assicura il vice sindaco Marco Consoli, quando i lavori saranno finalmente ultimati.